Nuove opportunità per incentivare la creatività di studenti e studentesse pesaresi sul tema della moda e del fashion design. La Fondazione Meuccia Severi è stata infatti ospitata oggi dal Liceo Artistico Mengaroni per presentare un bando di concorso che in linea alle finalità filantropiche della Fondazione consentirà ai giovani più meritevoli di ottenere alcune borse di studio da conseguire attraverso progetti originali e innovativi da sviluppare in sinergia e con il supporto dell'azienda pesarese Stile Ricamo di Francesco Chialini che sarà il terzo partner dell'iniziativa. Una preziosa opportunità che veramente ci rende orgogliosi ma anche un'occasione straordinaria per le studentesse e gli studenti delle classi quarta e quinta D dell'indirizzo di fashion design perché questo è l'indirizzo che per quest'anno scelto per promuovere questo bando e questo concorso. sarà un evento speciale in convenzione con l'azienda Stile Ricamo di Francesco Chialini cosa faremo? Faremo dei progetti, realizzeremo dei progetti su dei temi condivisi con l'azienda, i progetti più belli riceveranno questo riconoscimento in premi un premio che cosa consisterà? Consisterà chiaramente in un supporto in denaro per poter consentire loro o di effettuare per esempio un ulteriore stagio in contesto aziendale o di potersi iscrivere per esempio all'università seguendo il settore del fashion design oppure anche di programmare un inserimento del lavoro con anche dei potenziamenti su conoscenze tecniche particolari per ciò che riguarda il settore del fashion design. Coinvolgeremo circa 40 studenti quindi di classe quarta e quinta e insieme all'azienda che loro incontreranno definiranno un tema sulla base del quale andranno poi a definire il loro progetto. Che progetti verranno premiati? Verranno premiati quelli che si caratterizzeranno per maggiore innovatività, creatività ma anche possibilità da parte dell'azienda di vedere questo progetto realizzato. Ecco sarà un modo per le studentesse e gli studenti di mettersi in gioco rispetto a delle richieste che possono provenire dall'azienda quindi una bella preparazione, un bel trampolino di lancio anche per il futuro inserimento lavorativo. Queste competenze che sono una ricchezza infinita, un capitale umano bellissimo vanno valorizzate e questo penso sia veramente un'occasione speciale quindi ringrazio veramente la fondazione Meuccia Severi per questa preziosa opportunità perché consente ai ragazzi di mettere in campo, in gioco le loro esperienze, le loro conoscenze, le loro potenzialità in un progetto che ha un valore elevatissimo e tra l'altro è un aiuto veramente per tutti i ragazzi che no vinceranno anche per un progetto di vita futuro. Applausi del Mengaroni contraccambiati a distanza dall'azienda Stile Ricamo che non ha potuto partecipare alla presentazione di una prima edizione che la fondazione Meuccia Severi confida di venti, un appuntamento fisso per gli anni a venire. Mi pregio di essere il presidente di questa fondazione che è operativa da circa un paio di anni prevalentemente sul territorio diciamo locale quindi della provincia di Pesaro Urbino e che nasce dalla volontà della fondatrice appunto Meuccia Severi con vari scopi. Lo scopo principale è quello della conservazione e di rendere fruibile alla comunità quella che è la villa appunto di Meuccia dove risiedono tante opere d'arte e che potrà essere anche teatro di iniziative culturali e artistiche. Parallelamente a questo essendo la fondatrice stata per almeno 40 anni protagonista nel mondo della moda e della maglieria la volontà era anche quella di dare un supporto in questo settore e in particolare alle persone più giovani, agli studenti con delle iniziative all'interno della quale appunto si inserisce l'istituzione di questa borsa di studio.